Intervento di Vincenzo Notto, il direttore. Cittadine, cittadini di Casoria, compagni e compagni, ancora una volta, come già accade tre anni fa, è indegno che una città deve subire un'emergenza di fusi senza precedenti, è indegno, c'è una grave irresponsabilità nei ritardi di avviare una vera, un vero piano di sbaltimento dei rifusi soldi urbani. I cittadini hanno dimostrato una sensibilità molto sicure e superiore alla sua classe dirigente. C'è stato un impegno totale, quartiere per quartiere, strada per strada, dando risposte molto esaurienti e di disponibilità all'appello ambientale. Quello che è indegno è che in questa emergenza e in questa drammaticità ci sono permetti di farsi queste fotografie con visi sorridenti, come già a portare i cittadini a stemperare con quei sorrisi da scemi e con quelle facce brutte e strane che tanta preoccupazione sta mettendo nella nostra comunità. È indegno quello che sta accadendo. Addirittura ci stanno impedendo anche di esplodare la campagna elettorale fino in fondo con la prepotenza impedendoci anche degli spazi previsti per legge per ogni partito di affiggere un maricolo. L'unica soluzione per non aver l'immondizia per le strade è la raccolta differenziata al 100%, in tutta Castoria senza zone miste. La raccolta che ci proponiamo è del 30% e la quantità necessaria per alimentare gli ingeritori, mentre tutto il resto mischiato va a finire nelle discariche c'è nelle nostre terre dei prodotti che manchiamo ogni giorno. Noi vogliamo la chiusura di tutte le discariche, la conversione degli ingeritori in tiri di compostaggio che non regano danni né alla nostra salute né al nostro territorio. Con queste tecniche i rifiuti non diminuiscono, ma si risolvono perché il rifiuto zero si punte a 3%. Anche questa amministrazione come la precedente ha fallito totalmente dei suoi obiettivi. Questa amministrazione che tre anni fa vinceva da un dato elettorale drammatico di ballottaggio, annunciando alla città che era finita la cittirella per i vecchi governanti, ha dimostrato tutta la sua incapacità e la loro continuità di abbonica e personale, gli interessi di singoli uomini e di gruppi di uomini. Sinca dall'appuntamento delle ultime elezioni, il sindaco usciva non con una maggioranza, il sindaco usciva avendo un consiglio comunale di minoranza. Il sindaco poteva in quel momento rinviarsi di portarci di nuovo alle urne e dare il mandato al popolo, oppure rimanere in consiglio e sfidando l'intero consiglio comunale su delle priorità da adottare per la nostra città. Quello che è avvenuto in questa città, cari concittadini, lo dovete sapere e tutta la città lo dovrebbe sapere che molto probabilmente penso che non tutta la città è a conoscenza di quello che di grave è avvenuto in questa città. Il centro-sinistra alle ultime elezioni, scendendo in campo con tutta la sua macchina elettorale, la gigante, dice un mio amico, il gigante elettorale, imbarcando di tutto per vincere 23.000 voti al primo turno, il candidato gigante crolla al pallottaggio calando di 13.000 voti rispetto ai 23 del primo turno. Il candidato gigante Manano Polizio, cercando di addostare la responsabilità alla sinistra alternativa delle cause della rete e della perdita. Ma le cause delle perdite sono molto, vengono da lontano, sono profonde di chi non ha voluto in questa città avviare un bel processo di cambiamento del centro-sinistra. Tutti i gruppi consigliari, quasi nella loro totalità, del partito di e del partito democratico, con i suoi quattro consiglieri comunali, e uno della lista di Pietro, e uno rimasto che è consociato con il centro-destra. Cari concittadini, oggi questi uomini li troviamo nel centro-destra. Tutti i sessi consiglieri comunali del partito socialista, sin dalle ore successive alle elezioni, passano dal centro-sinistra nella maggioranza di centro-destra. quattro consiglieri comunali del partito democratico, oggi sono candidati nella FBL, nel partito di Berlusconi. È indegno quello che è accaduto, è vergognoso. Come si giustificheranno davanti degli elettori? Noi, in questa città, da anni abbiamo tentato in tutti i modi, rispetto alla drammaticità dei nostri problemi, di unificare un discorso di responsabilità, di unità, indicando anche, ce ne assumiamo ancora oggi come ieri, le responsabilità. di fondazione comunista in questa città, è stata determinante, se si sceglie anche i candidati a Sino. E ancora oggi vanno dicendo in giro che quelli che furono i nostri candidati indicati del mondo cattolico e della società di Sino. Ebbene andiamo fieri a avere scelto in quel momento quei candidati, perché si partiva da un grosso programma di rinnovamento e di discondibilità in questa città. Ma purtroppo queste candidati sindicati da noi diventavano prigionieri di interessi e di affari da noi non condiviti e noi purtroppo drammaticamente ce ne andavamo e passavamo all'opposizione. una opposizione che noi abbiamo tenuto con intransigenza e una grande durezza. È stato drammatico quello che è accaduto in questa città perché il popolo ci ha dato in questa città il consenso della potenzialità per avviare una svolta. Ma sono stati dei mascaldoni, piccoli uomini che hanno guardato al potere, al danaro, alla carriera, agli interessi, lontani da noi. Lontani dimostra come le nostre ragioni erano vere in quanto nel centro-sinistra in questa città si annidavano tutte queste forze apparistiche e del malaffare. E addirittura in un'opposizione in cui noi dicevamo questa città. Dopo gli anni 60-70, sul stacco urbanistico che è avvenuto, quello che ha subito, non era più praticabile in questa città ulteriore cementificazione. Casoria, per gli standard albicadio per metro quadratio e cittadini, ha sfondato tutte le previsioni, per cui non li abbiamo infidati con pazienti, con impegni a non perseverare le scelte che furono ieri del passato in una continuità che non sarebbe stata capita dalla città. città. Hanno continuato a rilasciare concessioni di diritti in area industriale, in area commerciale, dove in quella industriale c'è la potenzialità della piccola e media e quella artigianale. Alla fine un artigiano che chiede una licenza edilizia e la sua area di destinazione d'uso non la può avere più perché ci sono le abitazioni. Hanno dato in area C, a uso ufficio, migliaia di alloggi con la nostra disapprovazione che hanno fatto comprare casa, cittadini, a uso ufficio che per poco non hanno rischiato la condizia dei veri e degli immobili. Abbiamo detto che questa macchina comunale è la sua inderenza e che ha un costo per la nostra città. Deve riammodernarsi, riqualificarsi, mettere uomini e donne che ci sono nella macchina comunale, hanno i titoli per assumere i compiti di responsabilità e di guida e di professionalità. Hanno smandellato tutti i termini comunali, affidandole a perditi e a perditi dei tempi. Poi una piccola pioggia autunale e il primo avvenire. Noi non riusciamo più a uscire dalle case. Un distetto stradale e aziendale senza precedenti. Dipendenti, socialmente utili, imprezza privata, città, sottotizza e noi non ce ne riusciamo. Noi avevamo detto, la macchina comunale è massitata, vivo. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, ognuno ha i propri compiti, vivo. Chi sbaglia si assumerà le proprie responsabilità. L'abbiamo detto anche per quanto riguarda la polizia municipale, e la polizia municipale in nostra città aveva problemi temi di tenuta vorale, c'erano problemi delicatissimi. Noi abbiamo detto, mettiamo un comando, un comandante qualificato e adorevole che potesse riorganizzare il nostro comando della polizia municipale. peggio di prima, peggio di prima, l'acquadotto si sono attardati a portare un atto del imperativo in consiglio comunale privatizzando la rete pubblica, l'acqua del popolo, una rete di 200 miliardi a trattativa privata senza una gara, senza disperamenti diare né nazionali europei e di votazione comunista si portò verso la Procura della Repubblica inoltrando la denuncia penale agli organi competenti. C'è stato uno scontro senza precedenti. All'esterno i compagni a livello nazionale, il compagno migliore e il compagno Giovanni Russo diceva che questa sinistra non riesce in questa città per responsabilità di questo centro-sinistra a costruire un progetto di cambiamento in termini politici. Noi andiamo di liste per le nostre strade, ma caro centro-sinistra, attenzione, noi vi ammoniamo, non coinvolgete vicino alle liste del centro-sinistra, forse del malaffare e dei clanni organizzati della camorra, perché noi vi daremo fino alla carcere, informeremo la nostra direzione nazionale che lo scontro non sarà solo qui in termini politici, ma verrà anche in termini giudiziari. questo è stato una tragedia, ci addolora tutti noi, è stato drammatico, la gente della nostra comunità ha continuato a scoprire di queste scelte sbagliate su tutto, su tutto la nostra città non ha una tutela, su tutto, dai minimi servizi indispensabili hanno l'ultimo anno quello là che noi ribadiamo ancora. Noi con questa gente della malavita organizzata, ve lo diciamo da qua sopra stasera e per chiunque forza politica si assume questa responsabilità di avere queste competenze affigue, questi condizionamenti di questi uomini, ci metteranno loro avversari, quello è il modello da combattere, quello è il modello della morte, quello è il modello che mette i ragazzi ci dà falsi obiettivi, false speranze. Non è quella la strada, non vanno a venire nel modello del lusso, del benessere, troppo sangue le nostre strade, troppo sangue il discorso delle nostre strade, noi non possiamo, devono lasciar stare i nostri giovani nelle periferie e nei quartieri dovuti, devono andare, devono disarmarsi, la camorra si deve rendere, devono rendere, devono rendere, la democrazia è clemente, noi non doveriamo più questo stato di conto, noi non doveriamo queste preparazioni, questi gruppi e tanta gente nella nostra città è estorsa, la estorsione delle attività produttive nostre, lusura che spadroneggia e tutti in silenzio subiscono e hanno paura, tutti viviamo di paura, tutti viviamo di esaspitazione, tutti con chiunque parla, questi ne vogliono andare da Napoli da qua, con chiunque parla, nessuno più vuole rimanere qua, come questo non lo possiamo permettere. Auguri ai tanti nostri concittadini castoriani, figli di quello che fu il mondo operaio della radiatoce, della meccanica e della siderurgia e oggi paureati con Gianvergese e Lod in ingegneria, come medico, come valli e pari, stanno sparsi dal centro al nord Italia e per l'Europa, in ingegneria di castoriani, bravissimi figli del nostro mondo del lavoro, si inorgoglisce bene, quelli che rimangono qua, questi mascalzoni, questi mascalzoni li mettono nelle liste, facendogli credere che la politica può essere per loro una soluzione dei loro mali, hanno messo ragazzi nelle liste, poveri ragazzi, non sanno niente, così allo sbalzo, hanno firmato accettazioni drammatiche e io vi faccio una bella a tutti i compagni, principalmente ai compagni militari, vi prego, queste gente che noi dobbiamo liberare, non li guardate, non li sprecci, non li guardate, è gente prigioniera, mi hanno fermato nei cinti candidati di tutte le liste a dire voi siete la politica, voi siete gli bambini, ho due bambini, ho due bambini, non ce la faccio più, c'è drammatico, hanno prigioniero, hanno fatto prigioniere decine e decine di uomini con la speranza che li possono mettere al lavoro, è vergognoso, è vergognoso, i ragazzi devono fare il loro percorso, i ragazzi devono crescere liberamente, i ragazzi devono studiare, leggere, formarsi e poi ci vogliamo comunità pubblica perché qua è un problema di democrazia, dobbiamo ristabilire la democrazia, la gente deve vivere direttamente le sorti del governo, come anche a noi Sistra Unita ci dovrete stare molto vicini, sempre vicini, non solo con il voto, noi vi vogliamo sempre perché abbiamo bisogno del vostro sostegno e abbiamo bisogno anche, scusatemi compagni, anche di quei compagni che stanno a casa ormai da anni, insegnati, professionisti, medici che furono il nostro cammino da piccoli, dovete stalarvi, voi avete ai figli, mandateci i nostri figli nelle nostre sedi, venite pure voi, noi abbiamo bisogno e il conforto di tutti in questa grande battaglia che noi ci aggiungiamo a fare, noi vi volevo dire, le tre decennità di ragazze nelle scuole domeniche, ragazzi e ragazze, con i distintivi di tutti questi partiti, listicelle, 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 noi vi dite niente, dialogate, non avete rispetto, molti di loro ci poteranno di nascosto perché hanno paura, dialogate, aprite, nessuna contrapposizione e povera gente che soffre, per cento euro i ragazzi faranno i rappresentanti di listice, compagni, dopo queste trammaticità, questi rapporti, noi ancora una volta abbiamo tentato in questa città, dopo questi trasformismi che tutti i sedici consiglieri comunali del centro-sinistra sono passati nel centro-destra, abbiamo fatto appello al Partito Democratico di quello che rimaneva e anche loro all'inizio, devo dire la verità, avevano ribadito con documenti pubblici che loro mai più ormai era più praticabile un cammino comune con questo centro, con questa libertà, agli spazi cattolici che sono molto vicini in questa città, noi, nella realtà culturale, nella società città, noi non siamo scappati, noi siamo stati fino all'ultimo, li abbiamo invitati ad avere un cammino comune, di fare lo schieramento unitario che è andato dal Partito Democratico, l'Italia dei Valori è andata da De Magistris e ha assicuratoci da De Magistris, chi candidava? Non si possono dare i simboli a chiunque, non si possono dare i simboli a chi propugna legalità, moralità, etica e poi si passa di là. I verdi a Casoria, sapete che ormai non ci sono più, non neanche come si, noi abbiamo avuto un'esperienza con i verdi in questa città, di una drammaticità senza precedenti, Pecoraro Scani, l'ultima esperienza amministrativa, l'ha dato a due costruttori, due costruttori che andavano al comune chiedendo le varianze sull'oro del re, ma Pecoraro Scani, ma chi da essosi? Siamo stati in una follia, il Partito Democratico invitato da noi con delle denominazioni a una coalizione di centro-sinistra, città, il Partito Democratico alla fine per una scelta si dice nazionale doveva andare con il terzo volo, scusate i miei compagni, ha preferito andare a un'alleanza con i Finiani e non con la sinistra. Mi dispiace che compagni, poi ci sono stati a parlare anche gli altri compagni, mi scusate, io voglio solo terminare e dire ancora una volta all'onorevole Berlusconi che quando parla dei comunisti si lo chiese il cappello. La storia dei comunisti italiani è la storia della guerra di liberazione nazionale dall'antifacismo, è la storia della Costituente e della Costituzione, è la storia di grandi conquiste di uomini e donne, le conquiste del mondo del lavoro, della giustizia sociale, dell'uguagliate delle donne e dei diritti. Quella storia è continuata, del PC con democrazia proletaria, con rifondazione comunista, noi la trasmettiamo a voi compagni giovani, voi sarete la bandiera del domani di questo grande progetto che va a sinistra.